Ok, andiamo! Ok, andiamo! Voltare a sinistra. Ok, andiamo! 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 Prepararsi a voltare a destra. Voltare a destra. Voltare a destra. Ok, andiamo! 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 Ok, ma! Ok, andiamo! Ok, andiamo! Ok, andiamo! Grazie a tutti. 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 Prepararsi a voltare a destra. Voltare a destra. Grazie a tutti. 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 Andare dritto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Andare a tutti. Andare dritto. Andare dritto e poi voltare a destra. Voltare a destra. Voltare a destra. Grazie a tutti. Andare a destra. Andare a destra. Andare a destra. Alla rotatoria. Alla rotatoria. Alla rotatoria, prendere la prima uscita. Uscire adesso. Prepararsi a voltare a destra. Voltare a destra. Eccoci arrivati. Sani e salvi. Sani e salvi.